Che è più? Mi scherzavi non ti potevi mettere una sciarpa e una maschera di gas? Guarda che questi ho tempi difficili so, eh? Sai come si dice? Tempi senza precedenti. È vero, è vero, semplicemente. Poi il governo dice che dobbiamo stare tutelati. Io semplicemente voglio stare tranquillo. Ma che è tutelare tutelare? Qua il virus non esiste, stiamo tranquilli, stiamo. Eppure se esistesse, qui problemi non ce ne sono. Perché stanno senza contagi da settimane. Che cosa significa? Significa che ci possiamo andare a bracciare e baciare in mezzo alla fontana con tutti quanti e non succederebbe niente. Lo capisco o no? E qui sta strong. Sai che c'è? Eh. Sai che mi hai convinto? Sì, alla fine penso che hai ragione. Non ho bisogno di tutta sta roba. Va bene così, no? Finalmente l'hai capito. Sì. 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 Grazie per la visione!